Spalbeffata dall'arbitro e dal regolamento di Lega Pro. Il secondo tempo è iniziato da 5 minuti, i biancozzuri vincono 3-1 quando il signor Oliveri si accascia al suolo con una smorfia di dolore portandosi le mani al polpaccio, chiaro sintomo di malanno muscolare. Si intuisce che il guaio è serio, infatti dopo un inutile tentativo che dura un paio di minuti il match viene definitivamente sospeso tra la rabbia ed anche la disperazione degli spallini, compresi tanti tifosi che si erano sobbarcati i disagi della lunga trasferta fino ai confini con la Svizzera. Tutto da rifare perché non essendoci il quarto uomo in prima e seconda divisione le gare vanno rigiocate dall'inizio con da tenere in considerazione solo i provvedimenti disciplinari, tanto per capirci espulsioni ed ammunizioni. Rabbia perché dopo un avvio shock con il gol di Castellane che al terzo aveva avuto trovandosi completamente libero il tempo di prendere la mira e battere l'incompevole Menegatti e la clamorosa occasione sprecata al quinto da Adobati, involatosi in contropiede ma poco lucido al momento della conclusione, Naspal si era trasformato, tanto da diventare incontenibile. Cappellupo e Landi prendevano per mano la squadra, Di Quinzio e Pandiani volavano sugli esterni, continui e precisi nei rifornimenti agli scatenati Baricchio e Cozzolino quanto pronti a sacrificarsi in copertura. Così al dodicesimo colpo di testa di Silvestri con carambola su spampatti e ripartenza da zero. Un episodio che dava la carica alla truppa di Rossi, passavano appena 4 minuti e Di Quinzio trovava con una pennellata dalla senisca l'euro-goal del 2-1. Sulle ali dell'entusiasmo Fantoni al 23esimo ci provava dalla bandierina con solo una prudezza del portiere Santurro a negare il 3-1 che arrivava al 31esimo per merito di Cozzolino che entrava in area, resisteva la carica di un avversario e piazzava da posizione molto defilata un diagonale vincente di rara precisione. Naspal non si accontentava, cercava il gol della definitiva sicurezza, ci provava il solito Fantoni con un bolide dalla distanza al 33esimo su schema d'angolo chiaramente preparato in allenamento e ancora direttamente dalla bandierina al 41esimo. Poi l'intervallo, espazio solo per l'impotenza contro le regole paleolitiche e l'attesa per le decisioni per la data della ripetizione della gara e relativa lunga trasferta, certamente di mercoledì, forse il 9 ottobre.